Fall guys, ma non possiamo pronunciare la lettera P E fidatevi che è difficilissimo E inizia da ora, eh, perché vabbè, l'ho detta Allora, già la mappa, cioè, iniziava con Aniko E metteteci la P, non prendete... No, ecco, non rendete in giro... No, non è impossibile È impossibile No, raga, sto... Eh, hai visto quante volte c'è la P? Eh, la let... va Guarda, son caduto, son caduto La lettera... impronunciabile La lettera... dai, appena pronta... l'hai appena detta comunque Assurdo, veramente Aiuto! Bene, scriveteci ovviamente nei commenti quante... se avete voglia di contare Oppure scriveteci se abbiamo detto tante volte quella lettera lì o ure no Allora, amici, venite tutti qua, eh Non rompete le... Sono interrato Cosa vuol dire ti sei interrato? Eh, mi sono conficcato le gambe dentro le edane Ok, bene, entro dentro le edane Che poi... oh Dio mio Che... ragazzi... eh... Scriveteci quante volte... Cioè, anzi, chi ha detto più volte quella lettera lì, capito? Cioè, nel senso... chi di noi due ha detto più volte quella lettera lì Oh mio Dio, no, mi sento stupido Mi sento completamente stupido Vabbè, ho capito che questa cosa qua la diremo solo per il primo round Perché ovviamente... Devo pensare tutte le... Sì, no, però non parliamo così male Non parliamo così male perché... Se no diventa un completo disastro Dai, 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 no, ti prego, ti prego, ti prego, Dio Mmm... Niente Dobbiamo fare veloce Sì, dai, sembrano stupidi Ok, allora facciamo così Non vale più... ecco, non vale più quella... quella lettera lì Facciamo una lettera più... più semplice Non possiamo pronunciare la lettera... Ehm... Doppia V Ok Eh, tipo, esistono parole con la doppia V, eh E basta L'hai appena detto E poi no, c'è anche Ua Ryo Con la U però l'ho detta io Quindi non bisogna pronunciare quella... Raga, se no è impossibile C'è nel senso un intero video così che dobbiamo stare attentissimi Diventa impossibile Comunque... Vai Siamo 31 su 40 Noi... credo di potercela fare Oh no, 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 qua, qua, qua Eh, mi spiace Mario Ti ho visto che eri là con tutto il tuo cappellino Pazzesco Arrivo, arrivo Vai, 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 vieni, vieni Bravo C'è il pollo? Probabilmente sì Abbiamo finito il round Infatti dobbiamo strattanto vedere Adesso come continuerà questo giochetto Senza la lettera W però, eh Che poi ragazzi Se noi pronunciamo quella lettera Vuol dire che siamo proprio stupidi Cioè veramente Scriveteci nei commenti che siamo dei Deficienti Se pronunciamo quella lettera Non dobbiamo pronunciarla Perché la W non c'è praticamente dovunque Se ci riusciamo vuol dire che siamo proprio deficienti E iniziamo con la partita pazzesca Eh mio Dio Le rane giganti Sì, le rane gigantissime Però io sono stato Essendo spinto Non riesco Amici, cosa devo fare Per poter riuscire? Insetti pallina Ma che cosa stai dicendo? Parla più Alza il volume Sì Sì, sì, sì Alza il volume Nella testa E poi soprattutto Non dobbiamo pronunciare quella lettera Ricordiamoci sempre Intanto qua ci sono Tipo tutte queste robe Che ci stanno spingendo A destra e a manca Però noi ce la stiamo facendo Tantissimo Perché siamo un pro Di questo gioco Oh mio Dio Perché ho scelto questa parte Oh no Oh no Oh no Ti prego Troppo forte Sì, sì Alza il volume Nella testa Ancora di più Eh sì Eh ecco Adesso andava meglio Non riesco a passare Oh mio Dio C'è un bufalo Che mi sta puntando Oh mio Dio Aiuto Mi sa che Mi sa che io muoio Mario Cioè Aiuto Eh però No ce la sto facendo Ce la sto facendo Bene bene Guario Mario Vai ce la Ma porca di quella Cosa Hai detto quella parola No No come ho detto Quella parola No non è impossibile Cioè quella lettera No non è impossibile Non mi dire che ho detto Quella lettera Ma stai scherzando Che stupido Via Partiamo assolutamente Olle Bene Esattamente Qua io sto per cadere Dovemo entrare in questi buchi Che sono strani Perché ci portano Wow guardate qua Che figata Ma se io rientro dentro qua Cosa succede Ah vengo disparato Sì Non so che cosa Guarda che nessuno ha capito A cosa ti stavi riferendo E Genio del male Aiuto Ok bene Vai Sono dentro un buco di nuovo E sto essendo tirato Avanti e indietro Perfetto No sono caduto Non ho fatto cadere Scusa cos'è che hai detto Ma parla più forte Ma che Problemi Io ho detto Brutto Però pensavo Che ci fosse La doppia v Vabbè Ragionamenti Si immagino Ma come fai Vabbè La doppia v Dove l'hai vista In brutto Pazzesco Olè Olè Bene Perfetto Ce l'abbiamo fatta Ce la stiamo facendo Almeno io ce la sto facendo Poi gli altri non lo so Cioè tu Mario A che bravo Bene bene Io sono fra Queste palle che ruotano E non Non scrivete niente Nei commenti Cioè non prendete per il culo Per le palle Grazie Sono caduto È normale Sì sono normali Cioè nel senso Il 50% Della popolazione No adesso Basta Non dico più niente Andiamo avanti Che qua Ci sono Delle palle Che invece ci spara Palle colorate Però stavolta Qua c'è Un coso Aspetta Devo aggrapparlo Che sono caduto Infatti Sono stato proprio stupido Cioè mamma mia Che stupilino Però dai Allora devo prendere 10 Oh no Sono caduto Com'è che si prende Che tasto si deve prendere Shift Oh mio dio Oh mio dio No abbiamo perso Vabbè alla prossima amici Cioè alla prossima partita Dico Aiuto Ci sono le rane Che si gonfiano qua In questa mappetta Ma di nuovo Ma non era quella che Oh mio dio Ma che rottura di palle Scusami tanto Vabbè però Ce la possiamo fare Comunque dai Dovrebbero far uscire La nuova stagione Di Fall Guys Perché se no qua Cioè se no qua Diventano Come al solito Un po' ripetitive E poi Oh non riesco a passare Incredibile E' incredibile E ricordiamoci sempre Che non c'è Quella cavolo di lettera Subida Che tutti quanti Non dovrebbero mai dire Ma che è La W ovviamente Non sto scherzando Io non posso dirla Poi non puoi Questo livello Impossibile Sì è veramente impossibile Perché è tutto quanto Pieno di cagate Sei già più avanti Di me Sì davvero Wow che forte Che sono Ho proprio I muscoli Nelle chiappe Ma che caspita Sto dicendo Vabbè Perché c'entra Va bene Andiamo alla prossima Mappa Amici Questo è abbastanza Difficile Perché è tutto A memoria qua E il fatto che io Non ho memoria Allora qua c'è la banana Là c'è l'uva Qua c'è di nuovo Una banana Là c'è l'uva Ok Io sto sulla banana Ok anch'io sto sulla banana Poi l'uva ho in mente Eh Sono a fianco Assolutamente Allora la l'uva Uva Banana Banana Sono praticamente qua Allora vediamo cosa mi esce Banana Sono sulla banana Assolutamente Oh c'è uno che mi sta spingendo giù Brutto stronzo Come Oh Mi sta mettendo le mani addosso Oh come tipo Ma guarda Allora Fragole No che caspita sono queste cose Ciliegie Banana Ciliegie Banana Pesca Ciliegia Banana Pesca Vabbè in questi quattro c'è tutto Quella è mela in realtà Vabbè comunque Esatto Ah forse è una mela Vabbè Ciliegia Mela Mela Qua Stessa roba Pesca Stessa roba Sì infatti No più che altro Le pesche mica hanno Quell'etichetta lì Che è caduta L'hai visto Ah stupido Oh Anguria Anguria Fragola Ciliegia Mannaggia a te Devi parlare bene Banana Ciliegia Oh mio dio Ok perfetto Anguria Però adesso c'è l'uva Ma dov'è la banana Ok la banana ho capito dov'è Ok forza dammi La mela La mela Dov'è la mela Qua Dove vanno tutti Dove vanno tutti Palese Perfetto Io non me lo ricordavo Io non me lo ricordavo Però adesso so che Tutti ovviamente vanno nella giusta posizione Perfetto qualificazione Raggiunta Ci abbiamo fatta E possiamo andare Al prossimo round Lo stesso Mio dio ma raga Ma c'è sempre questo Ma non è possibile Cioè nel senso Voi state vedendo letteralmente La stessa identica cosa Praticamente Ma molto brutto Come è possibile Poi c'è la nasa Che scusa Adesso questa cosa La dico Avete presente Che c'è una app Della nasa Che io ho scaricato E praticamente Mi sta inviando notifiche Della grande nube Di magellano Ma nasa Ma in questo momento È bella Molto bella Però in questo momento Che caspita Me ne frega Cioè nel senso Io sto giocando a Fall Guys Sto scherzando Raga scrivetemi Se a voi interessano Tipo le cose spaziali A me molto È una cosa che mi interessa A me E salta La nasa ha capito tutto Cioè Lei dice Tu giochi a Fall Guys E guardi contemporaneamente L'altra cosa Cioè E certo E funziona così Sì sì Assolutamente Loro sono dei geni Del marketing Però qua intanto Sto facendo No dai sto scherzando Loro sono molto bravi Boh non lo so Saranno bravi Con il marketing Che caspita ne so Io non sono Esperto di nasa Scusa Cioè Non rompete le scale Eh vuoi chiedere a loro Esatto No No mi sta buttando giù Brutto schifoso Cioè Ok Ce la sto facendo però No che ce l'ho fatta Ho una fortuna E Avanti dove ci sono i coni gelato Vabbè Ma che gelato Sì sì Orco 2 Orco Ah ti vedo Che fastidio Che mi sta dando Scusate se mi innervosisco Ma è veramente Odio Da questa cosa Con i guys È un po' È un po' Inervosianto Veramente tanto Anche se non esiste questa parola Ma fate finta che I gavettoni Ma che cosa Oh Ce l'ho fatta Allè Allora io ce l'ho fatta Mi sono qualificato Ok ce l'ho fatta Bravo 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 Uhuh Ce l'abbiamo fatta entrambi raga Forse adesso magari arriviamo Alla fine Magari potrò vincere Per una volta Magari ce la posso fare anch'io Per una volta Chi lo sa Spero di sì E c'è un cavallo Qua strano Però andiamo alla prossima Ragazzi Qua c'è Boh Una Una mappa Che in realtà Siamo in finale Arrivati alla finale Troppo forte Sarà molto difficile Perché questa mappa È appunto difficile Non peraltro Aiuto Ce la posso fare Sì certo Ce la posso fare Anche se in realtà Mi ha già colpito una palla Mannaggia le palle Attenzione No infatti Ma secondo me Voi due Ve la state contendendo Molto bene È stato preso Da una palla gigante Interessante come cosa Però La Marcus vince Oh no ti prego Perché deve vincere lui Oh no Vabbè Vabbè Dai ce la Ci abbiamo provato Comunque È stato molto però Bello Molto bello